Accendiamo la candela, oh, accendiamo la candela, eccola qua Non so se la vedete ragazzi, ma eccola qui, ci porterà fortuna, ci porterà un po' di terrore anche se la finestra è aperta Ma sapete che non la posso chiudere, quindi avviamo il gioco Ecco già che ci stanno gli scarafaggi ragazzi, per me può far paura Dall'altro è stato pre... Ok, ok possiamo iniziare a giocare, è tutto buio, pesto, cioè non è che è solo buio Non si vede una ceppa, ovviamente dobbiamo andare verso quella porta Ragazzi Fuck Ma abbiamo qualcosa? No, non abbiamo proprio niente, abbiamo solo il menu di pausa Sono le 23.59 Infatti ecco ragazzi, lo gioco di mattina perché l'ho scaricato ieri notte praticamente E non mi sono avventurato a giocarlo di notte Intanto c'è uno che c'è a bei capelli Mazzà che infame, ha sparato alla moglie Mazzà e ha fatto uno sterminio sto tipo, ragazzi state leggendo Guardate che baffetto da formatore anni 80 Ma che sta succedendo? Ma che sta succedendo? Allora aspettate ci dobbiamo andare verso il passo, mai Ma che sta succedendo? Ma che sta succedendo? Infatti è pieno di... De roba, ma che cacchio? Ragazzi no, che schifo Ragazzi questa casa è infestata Ma ti prego Altro che i disinfestatori qua bisogna chiamare Ghostbusters Dai apri la porta C'è un certo rumore strano Ragazzi qua ci stanno dei rumori però lui non entra dentro la porta Ma ecco E si riapre quella Ragazzi io non sto a capire che sta succedendo e se le porte si aprono da solo o no Però in ogni caso E ristiamo qua di nuovo Allora come in gioco abbiamo capito che Sentite? Cazzo E' come che si chiara va a gigiando? Ma ragazzi va a morire Che cazzo ero? Ma ragazzi No ragazzi Ragazzi Qui praticamente dobbiamo andare sempre dentro questa porta a oltranza Perché non succederà qualcosa di brutto noi lo faremo Mamma mia mi potevo svegliare Meno male che l'ho giocato adesso no? Oh cristian da vera Ma potrebbe uscire chiunque Entramo regà Entramo regà Entramo Che cosa? Che cosa? Ok scarabèi So sicuro ragazzi che adesso Se giriamo moriremo tutti No Gagliardo però eh Infatti qui ragazzi veramente l'igiene è una cosa che Non esiste Ma poi non è che sono normali Sono i OGM Scarafaggi giganteschi Ma poi che c'è? Ma che cazzo? Che cosa Cristian da vera è? Di Eeeh 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 Ma che cazzo era mea? Eeeh 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 Cazzo Ma raga ma qua che cazzo sta succedendo? Non posso scappare da qualche parte? Non ci possiamo nascondere manco nella vasca Guardarci allo spesso Cazzo Non bene perché c'è qualcuno ragazzi non bene Ma ci possiamo guardare allo specchio Ma che cazzo Io direi di uscita a sta casa che dico Non toccare la dial ora Ma siamo proprio iniziati Eeeh 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 Notando Eeeh Che cazzo è? Guardati alle spalle no? Dio QUECAZZO Maledetto Che Cristian D'Areno Siamo morti così Che cazzo Cristian Porco giuba Poi fammo un attimo pausa Ok riprendiamo Ragazzi dobbiamo trovare un modo per entrare Dentro sta cacchio di porta E soprattutto perchè abbiamo quel cacchio Di mostro che ci insegue Non ci dobbiamo fidare dell'acqua del rubinetto Ci ha dato dei numeri ma Certo che cazzo è di arredamento sta casa Zin è qua Zin è là Addio Che è successo Che si è aperto Cioè abbiamo tipo sparato un test A una foto Ok lì che c'è scritto Perdonami Lisa C'è un monster Sì sì c'è un monster C'è un mostro dentro me Oh mio dio Sentite sti rumori ragazzi Io c'ho proprio i grilli Tra il bambino Ragazzi chissà quali Quale cose Ah Minchiazio Minchiazio Posso sentire Mi chiamare dentro Posso sentirmi Sì però regà così Oddio Via 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 Sì sì ma prega un cacchio Dio ragazzi c'ho i brividi Non so se è l'aria condizionata Quale il gioco Porco Due Porco Due Due virosi Ma cazzo è Guarda qui Un frigorifero Sono tipo enigmi ragazzi Come lo diramo giusto Crash Ma porca vacca Sazzo saluto Ragazzi sentite il bambino che piangia Oddio cazzo Mo morì Bimbo Sto coso che cazzo Mi pare ma vi dica Porca troia Lo J-Lo Oddio Si è tolta anche una L No Senti le voci Che vengono dall'inferno Qualcosa ti ha riso Non sei fia rega Ma porco due Mi prego Ok rumore degli alieni Che sta succedendo Porca Cazzozza Se ne potemo annar Andiamo se ne via da qui Cazzo Cazzo Oh È mezzanotte Corriamo di più Stiamo piaci Siamo intrippati Rega Guardate qua C'è qua proprio I trip mentali Sono partiti Domenichia stame Andiamo piano che qui Andiamo alla fine De Giovanna d'Arco Abbiamo pippato pure Pure Mi sorella Caspita Rega che cosa C'è questo? E basta! Qualcuno è morto Oh! Non si girare Non si può tornare indietro Adesso non si corre più ragazzi Caspiterina Comunque questo gioco è malato Chi l'ha creato è un po' un malato ragazzi Porca due Porca guacca Ecco lì Vedo la luce Andiamo incontro alla luce My friends Comunque ragazzi sto a sudare Dovrei andare anche al lavoro Ma sto ancora in mutande Vedo la luce ragazzi Vedo la luce Siamo tornati qui Non possiamo ancora scappare no? La porta è chiusa Vediamo se possiamo guardare all'interno dell'occhio No Oh! Che era quel coso? Che era quel coso? 2048 6 3 2 0 4 6 3 2 0 6 Si ho capito 2 0 4 6 2 0 4 6 2 0 4 8 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 10 10 10 12 10 12 14 14 15 14 15 15 15 15 16 16 15 16 16 15 16 18 15 16 18 17 18 19 18 19 19 20 20 20 20 Grazie a tutti. Grazie a tutti.